Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, eccoci qui, ore 16 come tutti i giorni per parlare insieme di carte Pokémon. La copertina dice 10 errori che state facendo, ovviamente va un attimo interpretata, nel senso che a parere mio ci sono 10 errori in generale che le persone, alcune persone secondo me stanno facendo in questo momento, che hanno a che fare ovviamente col mondo del collezionismo e del mercato di carte Pokémon. È un parere personale, quindi potete benissimo non essere d'accordo, fatemelo eventualmente sapere con educazione, rispetto come sempre, nei commenti e può anche essere uno spunto di discussione. Detto questo però, prima di cominciare, iscrivetevi al canale, mi raccomando, circa il 40% di voi non è ancora iscritto al canale, lasciate un like, attivate la campanella per essere aggiornati sulle novità di questo canale e ricordatevi che se andate sul sito ThePokeHunterStore, che è un negozio che vende di tutto per quanto riguarda Pokémon, giapponese, inglese, italiano, prodotti da spacchettare, TB, box, mini-tin, tin, accessori per le carte, accessori per i prodotti sigillati, insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, dateci un'occhiata, codice Profeta3, avrete il 3% di sconto su qualsiasi cosa, andate ad acquistare. Detto questo, dieci errori, allora in realtà ce n'è due che secondo me sono molto comuni, molto diffusi e secondo me sono proprio le cose da non fare e poi ce n'è otto invece in cui entriamo un po' più nel dettaglio. Allora, primo errore da non fare ragazzi, ve l'ho già detto tante volte ma ve lo ripeto, non comprate una cosa su consiglio di altri, cioè una cosa è se avete un certo budget, vi piacciono 3-4 cose e ad esempio chiedete secondo te con tot euro è meglio comprare questo, questo o questo, mi piacciono tutte e tre le cose, ne posso comprare solamente una, tu che cosa mi consigli? Quello ci sta, anzi è giustissimo chiedere. Il discorso diverso è dire, ciao, ho 100 euro, non so, non mi piace quasi nulla, cosa mi consigli di comprare per quanto riguarda i prodotti in edicola? Ecco, quella è una domanda che ha poco senso, cioè è impensabile andare a comprare qualcosa che magari non ci piace neanche solamente perché una persona ci ha detto che un domani potrebbe rivalutarsi, potremmo rivenderla. No ragazzi, cioè alla base di ogni acquisto in Pokémon, ma più in generale in tutti i settori, ci deve essere il gusto personale, cioè compro una cosa perché mi piace, compro una cosa perché la voglio. Poi, se ho un determinato budget e devo fare delle scelte all'interno di un gruppo di cose che mi piacciono, allora lì sì, lì ci sta a chiedere, tra queste cose, che cosa mi consigli di comprare adesso e perché? Quale di queste magari meglio prenderla adesso perché un domani salirà di prezzo e mentre invece quella me la posso prendere con calma perché più o meno resterà così? Allora quello è un consiglio che ha senso chiedere. Invece dire 8 euro, dimmi che cosa comprare, lo trovo già un po' meno sensato. Seconda cosa che è collegata a questa, prima di comprare qualcosa informiamoci. Cioè è impensabile comprare un qualcosa senza neanche conoscere nel contenuto. Io ho visto persone andare in edicola, comprare 5-6 tin senza sapere neanche le bustine che c'erano dentro e poi dopo chiedere ma è un acquisto corretto? Ma prima informati sulle bustine che ci sono dentro, informati sulle carte che sono contenute in quei determinati set e solo a quel momento lì, solo in quel punto lì, sei pronto per decidere se comprare o non comprare. Informati e poi compra. Non comprare e poi dopo ti informi, ok? Quindi l'informazione prima dell'acquisto. Terzo errore ragazzi, vendere o svendere il vostro vintage per risparmiare, fare soldi e poi comprarsi i prodotti del 25esimo anniversario. Allora io sono il primo che reputo il set e più in generale tutti i prodotti che usciranno ad ottobre per il 25esimo anniversario Pokémon. Sono il primo a ritenerli molto interessanti, molto importanti. Però ragazzi a livello di reperibilità non c'è paragone. Da un lato avete il vintage, un qualcosa che non è più in commercio e quando parlo di vintage non parlo di 3-4 anni fa ma parlo di 10-15-20 anni fa o 25 anni fa. Quelli sono prodotti limitati, cioè non ce n'è più, non ne usciranno più. Se li vendete oggi e li volete ricomprare 3-5 anni molto probabilmente dovrete pagare due volte tanto. Il 25esimo è un set assolutamente su cui investire ma i soldi per comprarli non devono arrivare dal vintage perché altrimenti state sbagliando. Quindi occhio a non fare questa cosa. Quarto errore sul moderno. Io sono il primo a dirvi che secondo me uno o due box se avete la possibilità sigillati di ogni set moderno vale la pena tenerli chiusi. Detto questo non andatevi a ingolfare le case o i vostri magazzini o le vostre dispense di 10 TB 8-9 box per set. No ragazzi, perché? Se è vero, come dico sempre, che anche un box moderno tra 4-5 anni avrà una rivalutazione di prezzo e per me l'avrà, io non sono d'accordo con quelli che dicono che un box moderno oggi vale X e tra 3 anni varrà sempre X o X meno. Non sono d'accordo. Ma sono d'accordo nel dire che un box moderno non avrà mai la rivalutazione di un box vintage a livello di Sealed, proprio perché la Pokémon Company ora stampa molto di più e in più ci sono molte più persone che tengono le cose chiuse. Detto questo, giusto magari tenere 1-2 TB di un certo set, 1-2 box di un certo set, sbagliato andarne a comprare 8-9-10. Sbagliato per due motivi. Il primo, quei soldi lì magari se li aveste investiti in carte singole o in altri prodotti Pokémon avreste avuto un ritorno maggiore. Quando fate un investimento, come vi dico sempre, non dovete solamente farvi la domanda quel prodotto lì domani varrà di più? Sì, ok lo compro. No, la cifra che sto spendendo per questo prodotto, se la spendessi in altre cose in Pokémon potrei farci di più a livello di rivalutazione? La risposta è sì, allora quel prodotto lì non lo devo comprare, devo andare a comprare quell'altro prodotto. Ok? Secondo motivo per cui è sbagliato è che molti prodotti moderni Sealed hanno poco senso. Esempio, Regno Glaciale, le TB. Allora, a livello estetico non è un TB bello come quello di Evolving Skies. A livello di pool rischiate di trovarci anche solo 1 o 2 V. Quindi, a livello proprio in generale di spacchettamento, se un domani uno vuole spacchettare un qualcosa di Regno Glaciale, andrà sul box, non andrà sulle TB. Ho due bustine, senza promo, sono troppo poche. Quindi alcuni prodotti sono anche poco interessanti. Quindi ragazzi, ok il Sealed moderno senza esagerare. Poi, quinto errore. Tutto ciò che è pre-vendita giapponese, box giapponesi è comprateli in pre-vendita, ma solamente a prezzi normali. I virus ce lo dimostra andare a comprare a prezzi folli, a prezzi esagerati. I prodotti giappo in pre-vendita non ha senso. Poi, se sono set ordinari, alla fine il prezzo scende. Quindi non fatevi, tra virgolette, fregare da alcuni venditori su Facebook che vi propongono prezzi totalmente fuori mercato. Abbiate sangue freddo, pazienza. Se il set è un set normale, ordinario, la Pokémon Company stampa in quantità industriali. Quindi aspettate e comprate quando il prezzo è il prezzo giusto. Poi, occhio ragazzi, a settembre ripartono i tornei competitivi. Non vendete, non svendete carte che faranno parte del prossimo meta. Vi faccio un esempio molto semplice. Regno glaciale, avete trovato dei Calirex Vimax o dei Calirex B? Parlo di quelli normali, non quelli alternate. Non vendeteli, teneteli. Sono carte che saranno le protagoniste insieme ad altre del prossimo meta. Vale sicuramente la pena tenerle ed eventualmente venderle a ottobre, novembre e dicembre quando arriveranno i primi risultati dei tornei importanti a livello cittadino e regionale. Se mi dite, come faccio a sapere io quali saranno le carte giocate visto che non gioco a Pokémon? Prossimamente farò un video anche su questo aspetto qui. Tanti di voi stanno saltando completamente Regno glaciale e salteranno Evolving Skies per tenersi i soldi per il 25esimo. Ragazzi, il set del 25esimo, ve l'ho già detto, è sicuramente un bel set, però Regno glaciale e Evolving Skies non sono set che si possono saltare completamente. Ognuno ha il suo budget, ci mancherebbe, ma un pensierino su almeno alcune singole quando tra luglio e agosto il prezzo di alcune singole di Regno glaciale dovrebbe scendere e poi a settembre-ottobre il prezzo di alcune di Evolving dovrebbe scendere, fatecelo perché sarebbe un peccato tra un anno essere qui a dire ok, ho in casa 4-5 TB chiusi del 25esimo e vai, però cavolo, quelle altre nette che adesso costano 180, 200, 250 euro, forse era meglio che le compravo quando costavano la metà. Ok, quindi, occhio, ok, 25esimo, bel set, ma i due set che abbiamo prima non sono da sottovalutare. Poi, discorso che è simile a quello che ho fatto prima sul Giappo, non comprate a prezzi folli i prodotti del 25esimo in prevendita. Sono prodotti che la Pokémon Company stamperà in quantità industriale, sono prodotti che troveremo un po' ovunque, sono prodotti molto belli sia da tenere sigillati sia da aprire, ma sono prodotti che appunto troveremo un po' ovunque. Quindi, se comprate in prevendita, comprate, ma a prezzi di mercato. Non andate a pagare un sovrapprezzo che è totalmente senza senso. Poi, occhio a comprare singole carte dal Giappone. Dal primo luglio sono cambiato un po' di cosette per quanto riguarda le tasse, ora qui non entro nel dettaglio, vi basti sapere che alcune carte che prima dal Giappone compravate a 10, ora su eBay le troverete a 15, 16. Perché è successo? Andatevi a vedere la nuova normativa in vigore dal primo luglio. Sono cambiato un po' di cose per quanto riguarda l'e-commerce, le tasse, la dogana, l'IVA, eccetera, eccetera. Occhio a comprare carte singole dal Giappo. Se lo fate, fatelo mai, prezzi giusti. Poi, errore inverso. Ok, aspettare il giusto nell'acquisto, non avere fretta nell'acquisto, ma da metà luglio a metà agosto, se dovete recuperare delle carte singole, è il momento più adatto per comprare. Quindi il grosso errore potrebbe essere quello di non comprare le carte singole, certe carte singole in quel periodo. Dovete finire dei set di sole e luna, dovete finire dei set di spade e scudo, beh, potrebbe essere il momento migliore per andare a recuperare alcune carte singole, alcune carte di Baby Shiny di Destino Splendente, alcune Full Art snobbate di Fragore Ribelle, Guardiani Nascenti o Sole e Luna. Insomma, potrebbe essere un'ottima occasione, un ottimo periodo per andare a comprare. Ragazzi, questi erano i dieci errori che alcuni di voi stanno facendo o alcuni errori che non dobbiamo fare prossimamente. Spero che in qualche modo questo video vi sia potuto essere utile, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto, vi ringrazio, mi potete scrivere come sempre su Instagram, Profeta Pokémon, su Facebook il gruppo Il Profeta dei Pokémon. Vi ricordo che mi potete trovare anche sulla piattaforma Viola, Il Profeta Twitch. Mi raccomando, sto iniziando o ho iniziato o inizierò a fare video su Pokémon anche lì. Io vi saluto, vi ringrazio, domani vi anticipo che andrò a fare un video un po' diverso. Fatemi sapere poi che cosa ne pensate. Vi dirò alcuni consigli di investimento se avete un budget di 100 euro o un budget di 200 euro. Vi farò una lista di carte, vi dirò quello che io farai al posto vostro e ovviamente sono solo degli spunti, non è che vi andrò a parlare delle 20.000 carte su cui si può investire, vi darò alcuni spunti e poi, come sempre, ne possiamo parlare. Grazie mille, è stato un piacere davvero. Come sempre, io vi saluto, vi ringrazio. Ci vediamo domani, come sempre, ore 16. Grazie mille, è stato un piacere. A domani, ciao.